La nuova guida, edizione 2017 di Eurotoc Italia, realizzata in collaborazione con Italia Tavola, è stata presentata a Borgo Ignazia, splendido resort nel cuore della Puglia. 211 i cuochi in totale nella guida, 62 le new entry rispetto all'anno scorso e la giunta, questa volta, della lingua inglese per rendere ancora più internazionale la professionalità dei soci. Tre giorni per la presentazione, in cui alta cucina e associazionismo hanno dimostrato tutta la loro forza. I cuochi hanno partecipato con entusiasmo e il tutto è stato completato da una tavola rotonda, una nuova occasione di confronto sulla cucina come traino del turismo. Un posto stupendo, Borgo Ignazia, un posto bellissimo, indimenticabile, un grandissimo congresso, un grandissimo evento, delle cene fantastiche, un ringraziamento particolare a Vraldi Miscanu, il nostro socio Eurotoc, che ora lavora qua e che è uno dei top manager, che ha voluto questo evento qua, in questa bellissima terra di Puglia, che ci ha fatto vivere due giornate indimenticabili, una presentazione della guida, una tavola rotonda interessantissima, legata a cuoco traino del turismo. La nuova guida di Eurotoc, una guida bellissima, per la prima volta anche in inglese, con tanti partner, tanti nuovi chef associati, un numero sempre crescente, sempre più importante, una guida bellissima, ancora più bella dell'anno scorso, come dicevo quest'anno andrà anche all'estero, essendo appunto nella versione inglese, siamo molto soddisfatti, un grande lavoro, un grazie particolare anche ai nostri partner, media partner di taglia a tavola, che hanno collaborato intensamente a questo progetto. Grazie.